Dopo essere risultata positiva ad un controllo antidoping, la bobbista russa Nadesna Sergieva ha ammesso la sua colpevolezza. Ad annunciarlo è stato questo sabato il Tribunale Arbitrale dello Sport di Lausanne. La russa, dodicesima nel Boba 2 a Pyeongchang, è stata squalificata e sospesa temporaneamente. La Sergieva era risultata positiva al trimetazzidine, un cardiotonico, dopo un controllo effettuato il 18 febbraio. Si tratta del secondo caso di doping che vede coinvolto un atleta russo dopo quello di Krushelnitsky nel Carlin. Grazie a tutti.